ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su momba zoo realizzato dai santa goat è un gioco che come avevo detto qualche live fa potrebbe essere un erede di my summer car seppur diverso non siamo in finlandia siamo nel canada francese quindi con alcune differenze ci si può avvicinare e credetemi dove io trovavo magari una semplificazione rispetto a my summer car che mi faceva un po storcere il naso scoprivo altre due cose magari in più che mi dicevano mi facevano dire che figo qua potete già vedere un indizio io lo inizio da capo ci fa lo chiamo video perché ho più partite iniziate potete tenerne più di una c'è il save game e questo è interessante così potete partire distinte vi faccio vedere quello che io ho fatto all'inizio adesso lo cominciamo vi presento un pochino quello che si può fare ci sono attività diverse ovviamente noi partiamo in questa località dentro questa casa che poi una casa non è e ve lo farò vedere dopodiché avete la possibilità di scegliere la camicia anche se potete cambiare la visuale in terza persona quando guidate non si vedrà nessun personaggio tuttavia potete vedere la manica quando chiedete scusa ci sono diversi tasti qua possiamo mettere degli oggetti abbiamo letto doveva far passare il la notte abbiamo la porta del bagno che purtroppo è rotta e non so se sia possibile ripararla abbiamo il bagno al momento non credo ci siano ci sia ancora necessità di fare il bagno ma se lo sviluppatore lo porta avanti con costanza magari potrebbe stupirci ma nonostante questo qua abbiamo una friggettrice un tagliapatate quindi la possibilità di farci le patatine fritte qui in casa abbiamo un computer che poi vi farò vedere perché è molto carina abbiamo questa caccia alle uova di pasqua penso sia un evento momentaneo e le trovate in giro sparse per la mappa qua abbiamo l'aria condizionata dove ironicamente ci dice stai provando ad aprire l'aria condizionata quando fuori ci sono i 5 gradi vedi te e ok non lo facciamo abbiamo il frigorifero il frigorifero è molto particolare perché vedete questa specialità chiamata poutine e questa è lo sciroppo d'acero con la bandiera del canada quindi la nostra alimentazione si basa per quanto riguarda la sete in alto a destra vedete maple syrup noi beviamo solo sciroppo d'acero ma moriremo moriremo malissimo e poutine questo pasticcio per pranzo per mangiare abbiamo l'energia e l'ansia inutile dirvi senza pronunciarlo che qua possiamo produrci delle cose che si fumano per rilassarci infatti c'è un tasto che poi vedete che non possiamo fumare perché non abbiamo niente con noi non si parla di sigarette ovviamente qua abbiamo il cassonetto e qua quello del riciclo qua abbiamo un quad che possiamo utilizzare già funzionante qua abbiamo un capanno di legno dove all'interno abbiamo già alcune cose una motosega che io posso già prendere e portare direttamente sul mio camion abbiamo una gomma che possiamo già mettere qui poi vi faccio vedere come funziona abbiamo una tannica che anch'essa la monto guardate la particolarità potete dovete svitare questo che è il tappo il beccuccio in modo da poterla rifillare a un distributore poi abbiamo due tipi di viti abbiamo una lista che adesso ve la farò vedere due tipi di viti una da 20 mm di una da 12 un collettore di scarico abbiamo una fiattoria una pala e qua abbiamo queste che sono delle parti perché vedete che lì ci sono tre foglietti appesi nel caso in cui arrivassimo qui vedete che ce li monta inizia lo scheletro di un buggy e infatti ci si completa con un altro foglio un quarto foglio con la creazione di un buggy quindi potremmo avere cinque mezzi a disposizione al momento qua ne vediamo uno due tre quindi abbiamo acqua passa il bus che arriva direttamente dalla città dalla scuola vabbè insomma più un altro ancora quindi ma un'altra particolarità di questo gioco ve lo dico giusto per snocciolarvi un po tutto possiamo potremo anche comprare un terreno e una casa quindi non vivere in questa roulotte tra l'altro adesso ve la faccio vedere però intanto cosa scomoda fosse un pochino scomoda è il fatto che quando noi andiamo a montare qualcosa sul motore non vediamo a priori le viti dobbiamo prendere la chiave inglese premere il tasto e che passa in modalità di diciamo di utilizzo puntare la vita le vite ci viene già montata e poi andiamo qui non ci sono una vita regola è una chiave inglese regolabile quindi non dobbiamo scegliere la dimensione giusta quindi qua è una semplificazione che tuttavia non è male abbiamo quattro e adesso mettiamo il quinto e la in questa è a posto poi un'altra cosa che vi faccio vedere vabbè adesso ci darà completato infatti adesso scusate ma appoggio la chiave qui perché vi faccio vedere che qua abbiamo per cominciare da fare in mezzo intermedio da fare un po più avanzato e da fare buggy che cosa succede possiamo anche produrre la sorta di succo da il buzz in pratica e qua ci dà le istruzioni con la cui ingrandiamo dobbiamo costruire lo sugar shack qua abbiamo cosa fare installare il collettore di scarico stringere le viti acquistare una pompa per le gomme riempire gonfiare le gomme parlare nostro fratello francis e vendere il firewood a francis quindi infatti se notate qua dietro c'è un attrezzo per spaccare la legna qua abbiamo un generatore possiamo accendere a spegnere poi tirando la cordicella va ad accendersi consuma benzina che va riempita ma sedendoci qui guardate che chi che chicca per salvare il computer si avvia un computer anni 90 si avvia compare l'energia star solito carica il sistema operativo e per salvare guardate qua via una sorta di windows tarocco e possiamo guardate un po adesso su windows si avvia ci mette il suo tempo quindi per salvare dobbiamo aspettare si è avviato windows xp a occhio premo vedete lui si mette a giocare prima di tutto a connettersi poi non so se li sentite ma ci sono i rumori del modem e gioca ultimo online va al formicaio di ultimo online finisce e il il gioco è salvato ovviamente tutto funziona fino a quando non finisce la benzina o spegniamo il generatore infatti anche il computer adesso è spento la macchina è quella di nostro fratello forse comunque salendo ci scopriamo che un cambio automatico a delle chicche perché possiamo abbassare anche i finestrini possiamo dare accendere la mano si accende perché perché dobbiamo aprire il cofano e andare a montare ad avvitargli il supermando qua si apre vedete questo è il motore andare a montagli il coltore di scarico tra l'altro adesso dobbiamo andare in città a comprare la pompa quanto le gonfiamo sono scritte qui le pressioni anteriore e posteriore spettacolo dicevo qua vabbè c'è quello per tagliare i tronchi possiamo prendere la motosega andare in determinate zone ma la cosa che non vi ho ancora fatto vedere è che premendo m c'è la mappa noi siamo in basso a destra nella isola più a destra e dobbiamo andare nell'isola centrale in città quindi dobbiamo arrivare in città prendere non la prima ma non la seconda non la terza non la quarta ma la quinta via in giù a un incrocio con un grosso edificio e arriveremo dove dobbiamo andare c'è anche un negozio di design quindi potete andare a comprare anche piante e decorazioni per la casa ci si può sedere su tutte le sedie ma questo è un po' particolare questo furgoncino qui perché non non potete aprire il motore un po come il van di di maizia mercato accendendolo stacchiamo il freno mettiamo la prima e andiamo se ci ribaltiamo che è una delle prime cose che vi capiterà sappiate che al villaggio dove alla città anzi dove dove stiamo andando c'è un caro a tessi che cliccandoci sopra ci verrà fatto selezionare il mezzo bloccato e al costo di 100 dollari verrà portato a casa nostra verrà rimesso in piedi quindi insomma questo è quanto sulla mappa non si vedono i non si vede dove siamo e un'altra cosa se andiamo a sbattere contro altre auto le altre auto sono lì puramente a parte forse il lo scuola bus che ci può dare un passaggio o adesso sul frigo c'era un numero di telefono da chiamare in caso volessimo che un tizio un amico ci dà un passaggio insomma non moriamo vedete adesso io posso fare anche queste cose senza rischiare minimamente di di morire o danneggiare almeno perlomeno quest'auto poi bisognerà vedere gli altri le altre auto che possiamo fare come vi dicevo potremmo acquistare un mezzo tutto c'è un mezzo un plot di terra e andare a costruire avere una nostra casa e non perché no anche un garage nostro personale perché perché di notte noi per fare soldi possiamo andare a tagliare legna possiamo vendere la legna appunto qua è il negozio quello del design insomma dove ci sono tutti tutti gli oggetti che che possiamo comprare tra l'altro premendo il tasto g notti no quale che era eccolo qua qua possiamo fare il pieno all'auto e essendo negli anni 90 troviamo la benzina senza piombo e la supera quindi qual gasolio non c'è tanto parcheggiamo l'auto tiriamo il pedale del freno e scendiamo sembra più ottimizzato per salire scendere dall'auto perché basta cliccare sul sedile quindi è una cosa positiva questa abbiamo vedete questo è il carro attrezzi che potete usare per rimorchiare uno dei dei vostri mezzi 99 dollari abbiamo poi vabbè anche qui oggetti nascosti quindi per prendere ad esempio qua possiamo comprare lo scioppo d'acero e lì in fondo se li compriamo tutti c'è un altro uovo da prendere possiamo comprare gomme summer tire gomme estive o gomme sportive abbiamo diversi tipi di volante diversi tipi di cerchi possiamo parlare con jacques che parlano la lingua le ciglia per rifare abbiamo gli ammortizzatori la pompa la compro subito ci vengono scalati i soldi immediatamente quindi non c'è neanche il rischio di rubare ma questo succedeva anche su my summer car dove cliccando sentivamo digitare e ci veniva messo in conto abbiamo una non so cosa una cesoria una chiave inglese per rimuovere i film quindi potete mettere le pellicole ai finestrini riparare la ruggine questo lo voglio lo vorrei comprare ma non no qua c'è una cosa nascosta c'è un volante da bus unico che possiamo prendere nessuno ci dice niente quindi la base la poesia è quella di è quella di my summer car questo è un grinder disc per il perché abbiamo anche possiamo anche smerigliare credo questo è un mixer io odio questo cliente io adesso non tocco niente abbiamo il blocco motore da 5000 quasi i mattinetti questo non so cosa sia ma questo lo possiamo usare a libero servizio 15 ci costa 15 a utilizzo le marmitte c'è c'è un sacco di roba da prendere calcolando anche che appunto possiamo poi prendere una casa e andare ad abitare non più in un lotto ma in una casa qua possiamo andare a riempire il riempire il adesso scusate vediamo se la meccanica è la stessa di my summer car esattamente sì prendiamo la benzina regolare non puoi usare questo carburante da paesano vedete che sale direttamente quindi non si entra poi a pagare facciamo qualcosina non più di tanto abbiamo fatto 50 per cento fatemi riavvitare il tappo tengo premuto lo riavvito e abbiamo la nostra tanica bella che è pronta in caso dovessimo finire il carburante la mettiamo all'interno ce ne torniamo in città c'è un cione ma torniamo a casa e come vi dicevo qui come vedete in alto dove c'è scritto vroom nell'isola più a sinistra di note potete fare le corse d'auto quindi potete consegnare pizza potete acqua la visuale in terza persona che vi dicevo potete consegnare pizza potete produrre il vostro liquido diciamo di da vendere potete coltivare si può anche coltivare qua ci sono tutti oggetti di design da comprare oltre che anche la cariola e così via o cazzo non ho sbagliato e quindi potete moddare l'auto oltre che appunto farvi un garage tutto vostro avendo più più di un'auto diventa comunque più vario rispetto a a un my summer car per quanto magari non ci siano tanti tanti oggetti ancora tante cose da fare quanto my summer car ma c'è anche oltre all'acquistare il lotto di terra e il cottage c'è dovrebbe esserci anche la discarica la discarica qui potremo accedere oltre che il bosco dove poter tagliare gli alberi quindi al momento ce ne torniamo a casa così non ti mette addosso quella rischio magari che avete con my summer car dove l'auto si sente sicuramente più più fisica più pesante e l'andare a sbattere significa rottura del pararezza o morte per voi questo non capita quindi è senz'altro davvero molto interessante questa cosa e adesso scusatemi ma mi sono distratto un attimo ok rischio di ribaltarmi dovete fare sempre attenzione la visuale qua ci viene in aiuto perché se ci ribaltiamo dobbiamo guardare se ci sono ancora tutti gli oggetti nel nostro cassone perché sennò devo andare a prenderli il contachilometri funziona perché siamo a 200 mila l'altra auto ne ha 300 mila e dobbiamo appunto poi la vedremo salire insomma non penso si potrà fare niente di che però adesso se andiamo a vedere la lista delle cose da fare ci sono delle cose interessanti perché ad esempio un obiettivo di quell'auto lì potrebbe essere anche il cambiare il cambio automatico in un cambio manuale e quindi qua dobbiamo mettere mano al motore non sarà senz'altro complicato da smontare tutto anche se comunque nel gioco ci sono tutte le sospensioni però è semplificato abbastanza tanto quanto da far divertire anche chi non è un appassionato di motori allora diamo un'occhiata alla pompa dei pneumatici che possiamo appoggiare qui no possiamo andare anche a riempire vediamo un attimo quanto allora le posteriori 32 a fronte e retro 32 psi 32 usa ok stiamo pompando proprio a piede quella pedivella 30 31 32 direi che ci siamo questa le gonfiamo le proprio su fisicamente poi possiamo togliere anche il martinetto tanto ok e questa l'ho gonfiata un po troppo ma tanto non cambia niente e poi si può tramontare anche l'abs perché l'abs quest'auto non ce l'ha funzionante dato che lampeggia già è accesa la spia del punto dell'abs quindi l'abs non funzionante adesso diamo un'occhiata ok gonfiata perfetta la metto nel baule vediamo se funziona la teoria di maestro mercarsi vedete qua nell'avanzato nell'intermedio a ecco amicizie ci sono anche le amicizie quindi c'è jack quello della il proprietario della gas station che abbiamo 7 su 5 frances che il nostro fratello più vecchio e la nostra nostra madre adesso vi faccio vedere qua cosa dice fai una buona amicizia conferenze completa il garage compri il cottage e prendi più terra guadagni accesso alla discarica installa una trasmissione manuale acquista un carretto d'alluminio connetti la tua casa alla rite energetica e poi acquista un altro trailer insomma un'altra un'altra cosa da mettere sul retro dell'auto qua possiamo vendere sciroppo ma intanto facciamo una cosa abbiamo operato questo vedete che andare a posizionarlo è facilissimo ma se noi avviamo il motore con questo attaccato e magari solo qualche vite non tutte ci ci si stacca adesso lo fissiamo così per per amore di caronaca allora iniziamo avvitando questo vedete che non c'è non bisogna giocare a indovina quale pixel va messo però basta passare un po intorno vedete che lo applichiamo la cosa scomoda che magari non come in branch non possiamo metterci le vite in tasca quindi bisogna continuare avanti indietro avanti indietro o ce le portiamo tutte fuori prima comunque la vita anche lì che non riesco a capire ok l'abbiamo avvitata allora una due poi io non avevo problemi mai summer car anche se avrei dovuto comunque guardare la guida ora se volessi rigiocarmelo la guida che io ho fatto perché tutto non mi ricordo adesso non so se manca ancora una vite o cosa passiamo col mouse e vediamo se se ci stoppa da qualche parte ma non credo quindi in questo caso abbiamo il collettore di scarico abbiamo buttato la vite mettiamo tutto qui tecnicamente ora dovrebbe andare la cosa spettacolare è che possiamo accenderla vedete la macchina si accende possiamo tirare giù i finestrini cioè ma ma in che mondo freno a mano abbiamo anche il vano porta oggetti infatti credo si possa salire anche di qua e aprire il vano porta oggetti oddio soltate via la vite che cacchio è questa fatemelo mettere lì non so che che cosa è quella vite lì chissà da dove si è staccata boh vabbè lasciala lasciala lì e dobbiamo staccare i martinetti qui usare anche il cric il cric che non ho capito esattamente come funziona perché il cric a cinghia insomma fa una sorta di leva ma tenendo premuto il tasto destro andiamo a levare questo martinetto qua che è utile me lo metto via e l'auto ora è utilizzabile quindi dovremmo aver completato tutte le quest iniziali se non che dobbiamo parlare al nostro fratello francis che non ho idea di dove sia però il bello di quest'auto scusate il bello di quest'auto è che è automatica quindi qua potremmo metterci a potete anche scusate a alzare a mandare avanti il sedile mandarlo indietro alzarlo cioè capite che quando dico che c'è qualcosa che magari dico eh no ma il summer carri diverso ma qua cazzo no le luci e si accende proprio anche la luce sul criscotto tolgo il freno a mano e vedete che c'è la spia dell'ABS accesa poi automatica quindi retro folle avanti non so perché non va questo parcheggio ah ma sicuramente ho qualcosa che qualcosa che non vado a sistemare però vabbè qua ci guardiamo ero riuscito a farla partire bene ma magari mi si è svitato qualcosa con la vite o più semplicemente c'è qualcosa di sbagliato nel collettore non so no il collettore è ancora al suo posto poi le parti da smontare adesso possiamo dare un'occhiata a vedere che cosa cosa c'è perché se noi recuperiamo questa possiamo vedere tutte le parti smontabili le sospensioni il cofano tutte le parti del motore cioè il motore è abbastanza smontabile quindi non è è bello profondo anche da quel lato lì e poi altra cosa abbiamo qua in camera no non mi ricordo dove è c'è il numero della mamma segnato da qualche parte qua c'è la temperatura ed è bassina c'è in Fahrenheit e in Celsius qua abbiamo il numero della mamma 555 2109 quindi 555 2109 ciao bello la tua la pulizia della tua camera sarà presto fatta facci sapere se ti faccio sapere se trovo qualcosa non so che cosa stia facendo ma vabbè qui invece possiamo chiamare Martin per chiedergli un passaggio in città io adesso non so se Martin è no non c'è qui nessuno che si chiama Martin nella lista delle amicizie quindi vabbè qua possiamo mettere la musica infatti qua c'è la possibilità di caricarci musica per noi non so se la ricondizionata avrà un senso se magari cambieranno le stagioni perché intanto intanto in alto a destra vedete l'ora vedete il giorno quindi non serve avere l'orologio avere altre cose abbiamo visto più o meno tutto quello che c'è da vedere all'inizio dobbiamo ovviamente adesso mangiare perché vedete che è salito il punto lo mangiamo quindi lo prendo premo E lo mangio e mi bevo uno scioppo d'acero e poi si va a dormire di là qua non abbiamo patate non abbiamo niente dovremmo coltivarcele credo mentre invece vi faccio vedere anche il quad che è carino come cosa si sale ci sono questi contenitori che non so come funzionino qua possiamo collegare qualcosa comunque qua si va a togliere il freno di parcheggio si va a girare la chiave parte solo se siete in folle infatti adesso in folle col verde andando avanti mette la prima tornando indietro torna in folle e diventa rosso quando mettete la retro perché il quad ha anche la retro mentre sta piovendo la prima volta che piove c'è questo collettore d'acqua qua che non so cosa serve H il clacson che questo non ha vedete che intanto abbiamo lasciato acceso lì non so dirvi ancora purtroppo se c'è qualcosa di tipo si scarica la batteria o cose del genere purtroppo non sono ancora arrivato a quel punto perché l'ho iniziato da poco ma ero preso dall'entusiasmo e ho detto lo voglio far assolutamente vedere sta diventando buio e non si vede più niente quindi si va a dormire la dormita è identica e vediamo no sono le mezzanotte e mezza ma io voglio dormire fino alla mattina ah ok poi mi fa schippare la notte questa è una cosa utile così non ci ritroviamo svegli alle 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 due di notte già completamente riposati questa è una bella cosa poi oggi camicia rossa a quadretti yellow dai gialla a quadretti non so se come dicevo c'è una batteria o c'è qualcosa possiamo dare un'occhiata ma non credo che al momento poi si comunque c'è roba anche sotto comunque da smontare cioè non è subito fatta la macchina cioè tutto perché tante auto avevano la batteria nel baule beh questo è il cric che non ho ancora imparato a usare però in pratica praticamente lo piazzate fincate l'auto e praticamente è come se ve la ve la tirasse verso il basso e non so che cosa cosa sia comunque se lo sapete fatemi sapere perché qua possiamo smontare i viti qua possiamo prendere questo e smontare quelli viti lì che praticamente smontano il cofano credo la pompa è lì possiamo smontare questi mettendo i martinetti sotto possiamo prendere il kit per la ruggine che costava 50 dollari e equipaggiarla lì là ok e è il punto di attravia tutto spengo le luci perché mi dà fastidio vederle accese ok interessante l'auto ma non capisco perché non parte ok questa è proprio strana ha problemi proprio di accelerazione però è un po' come se ci fosse il freno manotirato ma non c'è il freno manotirato vedete potete mettere questo visuale qui e capite qual è il problema metto la retro no è che probabilmente sono gonfiate male le gomme ecco guardate sotto com'è cioè non è proprio fatto male anzi a parte la mancanza del pilota che quello è un altro problema no ma sicuramente c'è qualcosa che non va perché sono riuscito a spostarla nell'altra partita che ho fatto quindi sicuramente ho incasinato qualcosa io nel montarla o nella nell'avvitarle gomme o che non le ho avvitate bene tutte o che manca qualche bullone non lo so sarà da vedere non riesco più a smettere di di giocare vediamo no sono tutte allacciate bene credo che anche qui sia tutto a posto ah no c'erano delle ah ecco perché ci sono viti viti smollate delle gomme dietro ecco perché non va ma nell'altra partita non era così girava normalmente tutte smollate ecco perché non va adesso adesso dovrebbe andare vabbè non so quanti gradi siano fuori ma no non va lo stesso quindi no perché vedete che è un po' come se si fosse buggata dentro qualcosa no ok è un po' come se fosse buggata dentro la la sabbia o qualcosa del genere si bello non so cosa sia questa macchina una conig sembra un BMW ma no il davanti non è molto da BMW ma però la trazione posteriore vabbè vabbè questa questo è quanto insomma l'altra cosa carina che potete fare poi chiudo è la possibilità di qua sul furgone di selezionare il 4x4 o il 2 due ruote motrici o 4 interessante anche la radio la possibilità di accendere e spegnere e quindi sentire la vostra musica questo è più o meno tutto quello che c'era da farvi vedere al momento probabilmente su dovrò esplorarlo un pochino perché ad esplorare la mappa ce n'è e magari lo potremo fare in una live fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Mombazoo e alla prossima 12 euro e 59 centesimi il costo su Steam alla prossima e ciao ciao ah tra l'altro questa è Spring siamo nel 2005 non negli anni 90 quindi magari ci dice che è primavera quindi magari cambiano anche le temperature andando avanti non lo so questo sarà assolutamente da indagare però sicuramente la tecnologia che usiamo in questi anni è ancora più vecchia comunque vi saluto adesso davvero alla prossima e ciao ciao ciao